Ciao a tutti e a tutti e benvenuti eccetera eccetera e bla 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 quindi cominciamo subito e nel video di oggi parliamo di tutto ciò che avresti sempre voluto sapere su 2 alla 0 e non hai mai osato chiedere e siccome questa è una domanda di base, una domanda fondamentale per la matematica prendo il mio telefono e vado a porre questa domanda delle persone a caso per la strada vado, ciao, ci vediamo dopo, ciao ciao Quanto fa 2 alla 0? E perché? Fa 1 Secondo te fa 1? Alla 0 fa tutto 1, vè? Qualunque cosa alla 0 fa 1 E sta a rispondere io Qualunque numero elevato alla 0 fa 1 Ma perché? Perché secondo te è giusto così o se dovrebbe fare una cosa diversa? Ma perché la matematica è basata su teorie che... 2 alla 0 0 0 Secondo te? 0 Perché? Sai spiegare perché? Perché 0 elevato sempre 0 Quanto fa 2 alla 0? 1 1 1 E perché secondo voi? Perché? E allora proverò a darvi 10 dimostrazioni che 2 alla 0 è 1 Cominciamo da questa dimostrazione qua Tu hai 2 genitori e hai 4 nonni e hai 8 bisnonni e hai 16 trisnonni E 16 è 2 alla quarta, 8 è 2 alla terza, 4 è 2 alla seconda e 2 è 2 alla prima e se facciamo ancora un passo indietro 2 alla 0 è 1 E sei tu Cosa vuoi di più da una dimostrazione? Ci sei dentro tu Secondo te quanto dovrebbe fare 2 alla 0? Non quanto fa ma quanto dovrebbe fare o quanto fa? 1 Secondo te fa 1? Perché? Perché tutti i numeri elevati alla 0 fanno 1 Te lo ricordi dalla scuola? Te l'ha detto la prova? Sì E perché? Si sbaglia Non si moltiplica nulla giusto? 2 alla 0 vuol dire moltiplica Qualcosa comunque rimane, non sparisce Non sparisce tutto, quindi il senso è che non sparisce tutto anche se non metto nessun fattore Sì, penso di sì E per questa nuova dimostrazione prendi un foglio di carta così e piegalo a metà e poi piegalo a metà di nuovo E quindi quando lo pieghi a metà alla prima volta ottieni 2 strati E quando lo pieghi di nuovo ottieni 4 strati e poi 8 strati, 16 strati, 32 strati eccetera eccetera E 16 è 2 alla quarta e andando indietro 2 alla terza, 2 alla seconda, 2 alla prima e quando non hai piegato niente Quando hai il solo foglio in mano, quello deve essere 2 alla 0 2 alla 0 è un solo strato 2 alla 0 1 Grandissimo! E sai dimostrare perché? Assolutamente no Assolutamente no Considera il tronco di un albero E supponiamo che al primo anno nascono due rami E supponiamo che poi al secondo anno ogni ramo dà origine a due rami e quindi i rami diventano quattro E che ognuno di questi dia di nuovo origine ad altri due rami e quindi abbiamo di nuovo 8 e poi 16, 32 eccetera eccetera fino a 2 all'ottava Ma allora 2 alla 0 deve essere il tronco di partenza, deve essere 1 E questo non è molto diverso da quello che abbiamo detto con genitori, nonni eccetera eccetera Ma la cosa interessante è che funziona anche al rovescio, così Perché puoi partire da un batterio che si duplica e dà origine a due batteri e questi si duplicano e danno origine a quattro batteri eccetera eccetera Ma questo mi fa venire una domanda molto interessante sulle potenze del 2 che voglio porti adesso Quanto fa 2 alla 0? 1 Eh ti hanno suggerito, e sai perché? O comunque Perché qualsiasi numero arrivato alla 0 è 1 Così è un dogma, è un assioma, è una verità assoluta Ve l'ha detto la prof e quindi è così, è una regola È spaiata È perché non fa 0, non moltiplico niente? Allora 2 alla 0 dà 0 e quindi nessun numero che tu Allora fa 0 o fa 1? Fa 1 Chi tra 0 per 0 è 0 Allora perché 2 alla 0 è 0? 2 alla 0 è 0 o è 1 alla fine, non ho capito? È 1 La regola dice 1 Ogni giorno le ninfee nel lago raddoppiano e in 100 giorni il lago si riempie di ninfee E la domanda è quanti giorni ci sono voluti per le ninfee a riempire mezzo lago? Lascia la tua risposta nei commenti qua sotto e andiamo avanti con le nostre dimostrazioni Quanto fa 2 alla 0? 0 0 E sai perché? Non mi ricordo ma è così 2 alla 2 cosa significa? 2 volte 2, quindi 2 per 2 è 4 Perfetto, e 2 alla 0 quindi tu dici non moltiplico nulla e quindi farà 0 Sì Sì perché la sento la tua voce, le sento le vostre voci di voi specialmente accademici Che ah sì, tante belle dimostrazioni, sì tutto molto empirico, fatti interessanti, ma dov'è il rigore? Dove sono le vere dimostrazioni? Dov'è la teoria? E allora ecco la dimostrazione teorica per voi Consideriamo 2 alla n per 2 alla m e ricorderai che il risultato è 2 alla n più m e se non te lo ricordi ecco qua perché 2 alla n significa 2 per 2 per 2 n volte E 2 alla m significa 2 per 2 per 2 m volte e quindi in totale quando moltiplichi tutto insieme ottieni 2 alla n più m E allora possiamo usare questa proprietà per dimostrare quello che ci interessa Consideriamo per esempio 2 alla terza per 2 alla 0 Il risultato deve essere 2 alla 3 più 0, cioè 2 alla terza In base alla regola che abbiamo appena visto E allora consideriamo anche che 2 alla terza è 8 Quindi 8 per 2 alla 0 deve fare 8 Ma allora 2 alla 0 deve essere 1 perché se moltiplico 8 per qualcosa e resta 8 vuol dire che quel numero è 1 E quindi abbiamo di nuovo dimostrato che 2 alla 0 fa 1 Quanto dovrebbe fare 2 alla 0? Secondo te dovrebbe fare 2? Perché dovrebbe fare 2 secondo te? A primo istinto A primo istinto? C'è 2, c'è uno 0 e resta solo il 2 Non complichiamoci la vita diciamo Ma possiamo usare anche le proprietà della divisione tra potenze Considera per esempio 2 alla terza diviso 2 alla seconda Lo puoi scrivere come 2 per 2 per 2 diviso 2 per 2 Ma allora i due due che sono al piano di sotto si semplificano con due dei due che sono al piano di sopra E quindi ti resta 2 alla 3 meno 2 E in generale se hai 2 alla n diviso 2 alla m otterrai 2 alla n meno m E allora possiamo usare questa proprietà in questo modo Scriviamo per esempio 2 alla terza diviso 2 alla terza e calcoliamo il risultato in due modi diversi Innanzitutto possiamo dire che il risultato è 2 alla 3 meno 3 in base alla regola appena vista Cioè 2 alla 0 Però 2 alla terza è 8 e quindi abbiamo 8 diviso 8 che fa 1 Per cui 2 alla 0 deve essere 1 Quanto dovrebbe fare 2 alla 0? Secondo te come sensazione? Come idea? Quanto vorresti che facesse 2 alla 0? Dovrebbe essere 0 Secondo te dovrebbe essere 0? Dovrebbe essere 0 perché 2 alla prima sarebbe 2 Giusto Però 2 alla 0 in realtà non dovrebbe neanche essere 0 Che cosa dovrebbe essere? Perché è una moltiplicazione Non si moltiplica nulla e quindi cosa viene? Viene un simbolo strano greco sicuramente Sì perché ho sentito che volete dimostrazioni ancora più teoriche Più fondamentali, più alle radici della matematica E allora consideriamo che 0 è l'elemento neutro della somma Quindi se non sommo niente ottengo 0 E allo stesso modo, in maniera analoga, in maniera duale 1 è l'elemento neutro della moltiplicazione Quindi se non moltiplico niente ottengo 1 Ma proviamo a essere più chiari su questi due punti Che sono al nocciolo della questione Se voglio fare una somma Devo partire con 0 E poi via via sommare i vari numeri che arrivano Per esempio se voglio contare i miei amici Parto da 0 e resto a 0 Però questo è un altro problema Se voglio fare una moltiplicazione Devo partire con in mente il numero 1 In modo che quando arrivano i prossimi numeri Inizio a moltiplicare e la moltiplicazione va avanti Perché se parto invece con il numero 0 in testa E arrivano i numeri e moltiplico Resto sempre a 0 E non può funzionare E i matematici hanno delle notazioni curiose Per queste due situazioni La somma vuota La somma sull'insieme vuoto fa 0 E la moltiplicazione vuota La moltiplicazione sull'insieme vuoto Fa 1 E voglio provare a dimostrarvi Che la moltiplicazione vuota fa 1 Anche in altri modi Perché è qui La vera radice della questione È da qui che deriva Che 2 alla 0 fa 1 Perché 2 alla 0 È una moltiplicazione vuota E allora consideriamo per esempio Il prodotto cartesiano Di varie copie della retta dei numeri reali Per esempio Se moltiplichiamo 3 copie della retta dei numeri reali Otteniamo lo spazio cartesiano In 3 dimensioni Se moltipliciamo 2 copie della retta dei numeri reali Otteniamo il piano cartesiano Uno spazio a 2 dimensioni E se moltiplichiamo Per così dire Una sola copia della retta dei numeri reali Otteniamo la retta dei numeri reali Uno spazio a 1 dimensione E se non moltiplichiamo niente Otterremo uno spazio a 0 dimensioni Uno spazio in cui Non ci si può muovere in nessuna direzione Questo non vuol dire Che è uno spazio vuoto Ma è uno spazio con un solo punto E qua c'è una questione importante Quindi Se non moltiplico niente Ottengo uno spazio con un solo punto Non moltiplico niente Un solo punto Non moltiplico niente 1 Non moltiplico niente Uno Due alla zero Uno Quanto fa due alla zero? Uno Uno bravissima Sai perché? Perché tutti i numeri elevati alla zero fanno uno L'ha detto la prof E la dimostrazione esiste o è una scelta così? Ci sarà E possiamo fare un'altra dimostrazione usando la logica Se consideriamo per esempio le frasi ABC E le concateniamo con l'operatore AND In italiano l'operatore E Otteniamo l'espressione A E B E C E questa espressione è vera Solo se AB e C sono tutte e tre vere Questo è un po' simile a ciò che succede Se abbiamo tre numeri e li moltiplichiamo fra di loro Se abbiamo tre numeri ABC e li moltiplichiamo fra di loro Il risultato sarà diverso da zero Solo se ciascuno dei tre numeri è diverso da zero Consideriamo adesso un insieme di frasi ABCDEF eccetera E concateniamole tutte con l'operatore E Otteniamo una lunga frase A e B e C e D eccetera E questa frase è vera solo se ciascuna delle frasi è vera Attenzione a quello che dico La concatenazione delle frasi di un insieme è vera Solo se ciascuna delle frasi è vera E allora proviamo a pensare invece di avere l'insieme vuoto Se concateno tutte le frasi dell'insieme vuoto So che è strano Se concateno tutte le frasi dell'insieme vuoto Il risultato sarà vero se ciascuna delle frasi dell'insieme vuoto è vera Ma nell'insieme vuoto non ci sono frasi Quindi ciascuna delle frasi dell'insieme vuoto è vera Semplicemente perché non c'è nulla da concatenare E quindi l'operatore AND Fra tutte le frasi dell'insieme vuoto Dà come risultato vero True E analogamente quindi posso pensare che L'operatore di moltiplicazione su un insieme vuoto Dà come risultato 1 La verità Ok 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 va bene Questa dimostrazione era un po' difficile Un po' tecnica Un po' avanzata E non ho potuto raccontarvela tutta Quindi andiamo avanti C'è una dimostrazione come dire di fatto Che dice che 2 alla 0 è 1 Ed è il fatto che 2 alla 0 Uguale a 1 È molto comune È molto comodo In tutti i linguaggi di programmazione E in combinatoria È un qualcosa accettato da tutti E anche ChatGPT è d'accordo su questo Ehi ChatGPT Perché 2 alla 0 fa 1? La ragione per cui 2 elevato alla potenza di 0 È uguale a 1 È definita per convenzione Quando eleviamo un numero a una potenza Stiamo essenzialmente moltiplicando quel numero per se stesso Il numero di volte indicato dall'esponente Ad esempio 2 alla 3 significa Moltiplica 2 per se stesso 3 volte Che è uguale a 2 per 2 per 2 Che dà come risultato 8 Tuttavia quando l'esponente è 0 Qualsiasi numero elevato a 0 È definito come 1 per convenzione Questo è stato deciso per ragioni di convenienza matematica E per fare in modo che le proprietà dell'algebra esponenziale Continuino ad essere applicabili Grazie ChatGPT E prima dell'ultima dimostrazione Un piccolo riassunto Ogni volta che moltiplichiamo per 2 L'esponente aumenta E ogni volta che dividiamo per 2 L'esponente diminuisce Quindi quando arrivo a 2 alla prima E divido per 2 Ottengo 2 alla 0 Che deve essere 1 Perché 2 diviso 2 fa 1 E posso anche andare oltre Posso ancora dividere per 2 E ottenere 2 alla meno 1 Che deve essere un mezzo E posso procedere così in questo modo Ma la vera dimostrazione Deriva dal fatto che Ho un amico Che una volta ho sentito per chat E mi ha detto che lui ha studiato E mi ha scritto su Facebook Che secondo lui 2 alla 0 è uguale a 1 E lui così mi ha convinto E comunque ci sono decine e decine di gruppi su Facebook Che discutono di quanto sia 3 alla 0 E ancora non lo sanno E mi è venuto il dubbio anche a me Quindi ho chiesto al mio parrucchiere Che è molto bravo come vedete E lui mi ha detto che si ricorda bene Che alle elementari Gli hanno spiegato che 2 alla 0 è 0 Per cui il dubbio permane Chissà quant'è E poi abbiamo un altro problema Abbiamo il problema di 0 alla 0 Ma questo ce lo lasciamo per un'altra volta Perché è troppo difficile E con questo abbiamo finito E ciao ciao